Come stai? Bene. E' guarita e quindi questa versione del Tg del turismo la rifacciamo in due. Ah sì sì sì. Perché tu cosa hai detto quando ero malata? Ho letto tutto da solo. Felice e contento. No 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 ero molto dispiaciuto. No ma invece no no. Andiamo. Sono quattro le case e museo a Milano nel centro della città quindi anche comode da raggiungere per una visita semplice e immediata ma di grande soddisfazione. Ah Milano bellissima. Parliamo delle case e museo di Milano e del circuito che le unisce tutte quante che invita a scoprire mostre ed eventi. E sono il museo Bagatti Valsecchi, casa Boschi di Stefano, villa Necchi Campiglio, e il museo Poldi Pezzoli. Tutto doppio cognome eh? Esatto. Uno con un cognome solo non c'è. Nobili, nobili, nobili milanesi. Al loro interno sono custodite importanti collezioni d'arte che sono state raccolte dagli antichi proprietari ma raccontano anche un po' di due secoli di storia della città attraverso appunto la storia di queste grandi famiglie che abitarono queste magnifiche ville. Ricapitoliamo. I nobili Gian Giacomo Poldi Pezzoli e i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi che vissero nell'ottocento. E poi i coniugi Boschi di Stefano e gli industriali Necchi Campiglio che vissero nel novecento. Hai voluto puntualizzare molto ma c'è qualche cosa da puntualizzare ancora meglio. Nei musei, alcuni musei in queste case, nel museo Bagatti Valsecchi, ci sono delle app che possono essere usate per visitare normalmente il museo ma anche per visitarlo dal punto di vista dell'IS che è la lingua dei segni perché appunto per non udenti è possibile appunto visitare questi luoghi attraverso queste app. Quindi è una cosa molto interessante e in questo caso c'è il primo video guida con queste caratteristiche. Perlomeno il primo nei musei di Milano. Milano. Insomma questo inverno ha fatto poca neve. E certo, è un guaio. Però insomma in alcuni punti l'hanno sparata e quindi la neve c'è e quindi possiamo parlare degli ultimi scampoli, diciamo così, degli sport invernali. Per esempio sul Monte Bondone, in Trentino, più o meno tra Riva del Garda e Trento, dal 3 marzo al 6 marzo, per i giovani, quindi per noi no, vabbè, è in programma la quinta edizione di Black Yeti con tante svariate gare di snowboard, freestyle, gare di notte, gare di giorno. Sì, non è adatto proprio a noi, vabbè. No, no, se ci rompiamo un femmine siamo finiti. No, ma aspetta, ci sono però tanti eventi collaterali come anche passeggiate in notturna nei boschi e fin lì ci possiamo arrivare. Ma insomma, se non ci perdiamo. Però, no, a Trento non potete perdervi il Castello del Buon Consiglio. Il Castello del Buon Consiglio che era la sede dei Vescovi perché i principi Vescovi c'erano, no, da quelle parti. E non a caso il Concilio di Trento che poi si tene a Bologna, una cosa strana perché c'era la peste, vabbè, ma insomma, no? Ecco, il Castello è tutto affrescato, è stato affrescato nel Medioevo e costituisce una cosa veramente unica. In più ci sono un sacco di collezioni che si possono visitare. Fino al primo maggio c'è una mostra di dipinti e artisti italiani e fiamminghi compresi tra il Cinquecento e l'Ottocento, mi sembra giusto, a Trento, no? Cioè, questo incontro, questi artisti spiccono opere a tema sacro, profano, ritratti, battaglie e paesaggi. Quindi, Castello del Buon Consiglio. Oh! Eh, no, non perdere. Non la dico, non la dico. Cosa? Buon Consiglio. È un buon consiglio. Banale, 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 andiamo avanti. Durante tutto l'anno i biglietti del TGV, cioè il treno che va dall'Italia alla Francia, sono in vendita fino a 120 giorni prima della partenza. Però c'è un'eccezione. Riguarda i viaggi a partire dal 3 luglio fino al 28 agosto, cioè l'altissima stagione. Questi biglietti qua sono in vendita in blocco il 3 marzo. Ma dai! Ma dai! Quindi se state pensando alle vostre vacanze... Il 3 marzo subito. Sì, proprio li vendono tutti. Vabbè, insomma, se avete già le idee chiare, avete idea di raggiungere Parigi o Lione, in estate sappiate che proprio da oggi i biglietti sul treno veloce francese sono in vendita, a partire da 29 euro. Pochissimo. Eh, bisogna approfittarne. Ma, allora, Parigi, Parigi è famosa per tutto quello che è Parigi, ma d'estate può essere interessante andarci. Perché? Perché lungo la Senna ci sono appunto queste spiagge, no? Questa spiaggia di Parigi, che i parigini amano molto, che è piena di persone che ci fanno la passeggiata, che ci vanno a prendere il sole. Mi ricordo che c'era anche... che ad un certo punto ti spruzzavano anche l'acqua, ma poi alla sera è tutto un fiorire di incontri, di cose, di cose carine da fare. Ma capito, ma gli diciamo di andare in spiaggia a Parigi? Parigi è tutto sul Parigi. Sì, vabbè, questo d'accordo. Proprio per l'espizione uno ci va, per tanti modi. Possiamo farlo anche sul Tevere, a Roma, e possiamo farlo anche sul Reno. Intanto è vero che vi dico anche una notizia, appunto. Ecco, sul Reno cosa succede? Il Reno deve essere il Reno di Bologna, deve essere balneabile, non il Reno. Deve essere di nuovo balneabile. Quindi ci sarà appunto una manifestazione che avrà proprio questa caratteristica. Andare a fare il bagno in Reno, anche se non si può, ma ci multeranno, ma se ci multano noi diremo, ma scusate, cioè il Reno deve essere balneabile. Lei è nata a Casalecchio di Reno, provincia di Bologna. Vabbè, andiamo avanti. Ma i fiumi devono essere balneabili. Grazie per i tuoi magnitici consigli. Andiamo avanti. Siamo ai consigli per il weekend. Certo. Dal 4 al 6 marzo. Sì. A Trento va in scena a Casolara, la fiera delle migliori produzioni lattiero casearie. Diciottesima edizione, con una quarantina di espositori. Ingresso gratuito a Trento Fiere, dal 5 al 6 marzo. A Monte San Biagi, in provincia di Latina, c'è invece una sagra della salsiccia al coriandolo. È stranissimo, perché noi siamo emiliani, quindi la salsiccia è una cosa, no? Sì. Non ci metti il peperocino piccante, il peperosso dolce, il vino moscato al coriandolo. Invece questo succede in provincia di Latina, giustamente, perché ogni luogo ha il suo gusto particolare. Salsiccia, no, paese che vai, salsiccia che provi. Invece all'Ignano Sabbia d'Oro sulla costa friulana comincia questo fine settimana e dura fino al 13 marzo, la sagra delle cape. Cosa sono? Sono le vongole. Ma dai! Ma si gustano anche le cappe lunghe, cioè i cannolicchi, le sarde alla griglia, oppure le sarde in saor, che sarebbero... Vabbè, vabbè, vabbè. E i calamari. Oh, che bello! Questo weekend si mangia, mettetela giù come volete, ma sempre in Italia si mangia. Sì, posso dire una cosa, aggiungere una cosa? Il 4 marzo, visto che stiamo parlando del 4 marzo, a Bologna, al Circolo Naturista, c'è una mia conferenza sulla esopolitica. Cosa? Esopolitica, lo sanno loro. Esopolitica. Esopolitica, venite. Il 4 marzo, alle 20 e 30, al Centro Natura, di Bologna. Segnatelo. Esopolitica. Esopolitica, interessante. Esopolitica. 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 Esopolitica.